Torna a Bari il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L'evento è organizzato dall'associazione Susan Come in Italia che raccoglie fondi per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne. L'appuntamento con il villaggio Race quest'anno è per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio in piazza prefettura a Bari. E naturalmente si conclude appunto domenica 27 maggio con la Race, la corsa contro i tumori. Sentiamo. Siamo pronti per la dodicesima edizione della Race for the Cure, piazza prefettura. Io vi aspetto il 27 maggio, ma prima ancora di questo vi annuncio le nuove novità. Quest'anno la Comen nella sua continuità ha delle grandi diversità. Abbiamo l'esercito che ci supporterà in tutti i termini sotto un punto di vista medico-sanitario. Abbiamo il generale Mauro Prezioso che correrà, il generale di Virgata che correrà con noi ma ci supporterà. Una grande novità quest'anno per la prima volta a piazza prefettura abbiamo le tre unità mobili, la carovana della prevenzione, che già ha fatto tappa a Catino. Siamo stati ad Altamura, il 23 staremo ad Andria, il 24 a Bitritto, il 25 e il 26 qui al villaggio, attraverso cui potremo attenzionare tante donne in difficoltà. Un'altra grande e bella novità è la sicurezza. Quest'anno è molto alta l'attenzione alla sicurezza e il villaggio sarà sorvegliato, video sorvegliato. E poi ringrazio tutti i capitani famosi che ci hanno sopportato. Io vi aspetto in tanti il 27 maggio, piazza prefettura. La prevenzione è uno strumento molto efficace per proteggere la salute. Ogni donna dovrebbe imparare a prendersi cura di sé, dedicarsi un'ora all'anno per fare, nel caso dei tumori del seno, una mammografia e eventualmente un'ecografia mammaria che possono consentire di accorgersi presto dell'eventuale sviluppo di questa malattia e quindi poterla curare con terapie meno invasive e con possibilità di guarigione molto più alte che superano in questo caso il 95%. È importante che la Comen organizzi ancora una volta nella città di Bari questa corsa perché è un momento per parlare di salute, di benessere, è un momento anche in cui si può socializzare, si sta bene insieme, parlando di alcuni temi importanti come quello della prevenzione del tumore al seno. Ormai questa città si è caratterizzata da anni come la città della corsa ma anche la città della prevenzione e quindi mi sento di ringraziare gli organizzatori della Comen per aver ancora una volta portato la Race for the Cure nella nostra città. Per la prima volta la Regione Puglia partecipa direttamente con una propria presenza da parte dell'Agenzia Regionale sulla Salute. Presenteremo la rete delle Breast Unit della Regione Puglia che finalmente è venuta d'esistenza e soprattutto faremo parte di questa grande squadra che lotta contro i tumori al seno delle donne della Puglia.